La storia di Giuseppe Di Vittorio, nato bracciante e divenuto segretario della CGL, è una lezione per le nuove generazioni. In occasione dell'anniversario della morte del sindacalista, scomparso a Lecco il 3 novembre 1957, Spazio Teatro Invito ha ospitato uno spettacolo promosso dalla CGL Lecco e dedicato agli studenti per invitarli a riflettere sulla storia di Di Vittorio e sull'importanza del ruolo del sindacato, non solo nel passato, ma anche nel mondo di oggi. La giornata di oggi per noi è davvero molto importante, importante perché riteniamo che oltre al nostro mestiere della sindacalista ci sia una missione dentro noi e cioè provare a tramandare ai ragazzi e giovani che sono nel futuro alcune cose importanti. Le cose importanti sono che i diritti che sono stati conquistati in passato che oggi si stanno utilizzando e noi abbiamo delle responsabilità appunto a far conoscere ai giovani il sindacato, cosa ha fatto, cos'è e che cosa farà. Crediamo che sia fondamentale conoscere per avere poi la libertà di scegliere di chi si vuole essere e chi si vuole diventare. E la conoscenza passa da tutte le forme, anche dalla forma d'arte del teatro e quindi dedicare questo spettacolo agli studenti permette a loro di conoscere in una maniera diversa una parte della nostra storia.